ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video di minecraft con nike 99 saluta please ciao a tutti siamo felicissimi sapete perché? perché ci hanno lasciato la fazione cioè è un po' distrutta però l'importante è che ce l'hanno lasciata anche un'altra buona notizia è che non hanno toccato niente cioè non ci hanno rubato niente infatti per questo veramente vi dico grazie 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 e niente quindi possiamo dire che è ufficialmente riaperta la serie electronic craft e come al solito vi dico se volete partecipare a questa serie nike 99 partecipa già e niente ora noi rimetteremo a posto tutta la fazione e niente quindi da me è tutto e anche da nike 99 ci vediamo al prossimo meraviglio ciao a tutti 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 grazie a tutti